Vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e molte altre ghiottonerie si possono portare a casa per soli 20 euro acquistando il paniere delle eccellenze. Il prodotto solidale che per il secondo anno consecutivo l'ANT, Associazione Nazionale Tumori, ha realizzato in collaborazione con Vetrina Toscana, il progetto di regione Union Camere che promuove i ristoranti e le botteghe che utilizzano i prodotti tipici locali. Il ricavato della vendita del paniere consente di contribuire e garantire assistenza specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore. Vuol dire mettere al centro l'uomo, mettere al centro la famiglia e fornire tutta una serie di servizi che possono far sentire sicuramente la presenza del medico, dell'infermiere e dello psicologo, ma soprattutto non far sentire soli e non far sentire il senso di abbandono che a volte può entrare nella famiglia quando ci si confronta con una malattia difficile come quella del tumore. Il paniere è anche uno strumento per divulgare educazione sulla corretta alimentazione attraverso una serie di incontri informativi organizzati in tutta la Toscana, soprattutto in occasione dei Merck Ant di Natale. Dargli un sostegno noi, dargli un aiuto è doveroso, cerchiamo di farlo con la leggerezza con la quale lo stanno facendo loro, cercando di unire al problema un momento di eccellenza, un momento di racconto della qualità di ciò che la Toscana offre. Un'associazione che da tanti anni aiuta e sostiene le cure domiciliari dei malati oncologici e oggi lo fa anche con il sostegno e il supporto di tante eccellenze enogastronomiche che la nostra regione esprime e che si sono messe a disposizione per questa iniziativa di grande valore solidaristico. L'Ant Toscana in 20 anni di attività ha assistito grazie alle donazioni 6.500 pazienti e offerto 25.000 visite di prevenzione oncologica gratuita.